Ehi, ma che cos'è questa luce che lampeggia? Non lo so, io continuo a mangiare questa caramella. Ok, forse dovremmo controllare. La luce ci ha presi! La prima sfida è con le caramelle. Beh, io amo le caramelle. Sembra buona. Ed è buona. È ora di immergerla nei confetti. Vediamo di cosa sa. Dovrei assaggiare anche questi. No, sono aspri. E ora gli ultimi. I miei preferiti. Ora tocca a me assaggiare. Verserò i confettini nel piatto. E li assaggerò da lì. Che buoni. E ora lo stecco. Non male. E ora la prossima sfida. Rosso contro blu. Ho della gomma in polvere. Versiamola e cominciamo. Wow. Interessante. Chissà di cosa sa. Ne metterò un pochino sul dito. Assaggiamo. Non male. La mia è a spray. L'odore è buono. Spero anche il sapore. Yeah. Ehi. Dammi la tua. Devo fare un esperimento. Dunque, ho la polvere in bocca. E ora aggiungo lo spray. Bene. Ora tocca a me provare. Aggiungiamo lo spray. Che bella sfida. Bene. E adesso? Sembrano dei mini water. Oh, dentro c'è della polvere. Non sono tanto convinto. Oh, ehi. Ci sono dei lecca-lecca. Mi piacciono i lecca-lecca. Che bello. Hai gli occhi chiusi. Gli faccio uno scherzo. Metterò questi nel water. Gli prenderà un colpo. Però ha ragione. Il lecca-lecca non è male. Proviamolo con la polvere. Ancora meglio. Mi piace. Eh già. Finora è il mio preferito. Buono, eh? Anche io voglio provare con la polvere. Ma io la verserò direttamente in bocca. Questa polvere è strana. Che schifo. Ci è cascato. Guarda, ho una piccola slot machine. Che carina. Anch'io. Wow. È piena di gomme. Beh, prendiamone una. Sembrano buone. Non vedo l'ora di provarle. È proprio buona. Anch'io ne voglio una. L'ho perso. Devo riprovare. Forse se continuo a tirare. Non è giusto. Scommetto che io ci riesco. Stupida slot machine. Ecco. Meglio. Ora posso mangiare una bella gomma. Ma perché mangiarne una se posso mangiarle tutte? Eh già. Spettacolari. Avevi ragione. Vediamo cosa ci tocca adesso. Oh, è un piccolo cono gelato. Che carino. Chissà cosa fa. Ci arriverò. Non mi sembra granché come Detective. Qui sotto è abbastanza strano. Guarda cosa fa quando lo giri. Almeno sei riuscito a farlo funzionare. Voglio vedere se è buono come sembra. La tua lingua. Ha cambiato colore. Ora devo provare il mio. Il gel è così carino. Diamoci dentro. Guarda la mia lingua blu. Scambiamoli e vediamo che succede. Quello rosso è squisito. Quello rosso è squisito. Ha funzionato. Le nostre lingue hanno cambiato colore. Ma che strano dolcetto. Guardando meglio, è un maialino. Ma non so che ci dobbiamo fare. Forse se premo qui... Oh, guarda. Assaggiamolo. L'ho fatto funzionare prima io. Pensa di essere furbo. Ma anch'io ho dei poteri. Mira perfetta. Proprio sulla guancia. Ok, andiamo. Ok. Sì. Pop Rock. Le adoro. Anch'io sono divertenti. Mi piace il rumore che fanno. Facciamo a cambio, come hai detto tu. Apriamo questo sacchetto. Profuma di ciliegia. Prima voglio metterci il dito. Ma guarda. Sembra buonissimo. Diamo inizio alla festa. Senti come scoppiettano. Lo sento anche sulla lingua. Oh, no. Quelli rossi sono piccanti. Wow. Ma che mi è successo? Ho i capelli rossi. Wow. Proviamo quelli blu per vedere che succede. E via. Sono troppi tutti insieme. Oh, no. Che sta succedendo? Sono tutto blu. Vorresti essere blu o rosso? Facci sapere nei commenti. E non dimenticare di condividere questo video. Ed iscriverti al canale per tanti altri video. Ciao. Grazie a tutti.